Ciao a tutti, sono Emma dell'Orso Mago ed ecco a voi il consiglio di oggi. Oggi parliamo dell'azienda Top Bright, un'azienda che dal 1989 si occupa di produrre giochi educativi per i bambini. Infatti il suo motto è Accendiamo il talento dei bambini. In particolare oggi parliamo di questo gioco che è Il Corvo che beve. La conoscete la storia del corvo? Praticamente, c'è questa storia per cui una mamma corvo cercava di procurare dell'acqua per far bere il suo piccolo. Dopo un po' che cerca trova una bottiglietta d'acqua e quindi è felice perché pensa di poter dare da bere al suo piccolo. In realtà il livello dell'acqua è molto basso e quindi nessuno dei due con il becco arriva a bere. Ma il corvo che è molto intelligente cosa pensa? Nota che se fa cadere dei piccoli sassolini all'interno della bottiglia il livello dell'acqua sale e sale fino al punto in cui finalmente i due piccoli corvi riescono a bere. Questo gioco è ispirato a quella storia. E come si gioca? Praticamente, questa è come se fosse la bottiglia in cui versiamo dell'acqua. Dopodiché avvitiamo questa parte sopra. Ora accendendo il gioco faremo partire una musichetta che è il conto alla rovescia in cui dovremo riuscire a inserire questi sassi con questa pinza a forma di corvo all'interno della bottiglia. Mi raccomando, come potete vedere ci sono due diversi spazi, uno quadrato per il sasso quadrato e uno tondo per il sasso tondo. Quindi mi raccomando dovete riuscire nel tempo della canzoncina a mettere tutti i sassi in modo da far salire il livello dell'acqua e far bere il corvo. Avete visto? Il livello dell'acqua è salito e il piccolo corvo è riuscito a bere. Se invece non sarete abbastanza veloci a far salire il livello dell'acqua, il povero piccolo corvo non riuscirà a bere. Proprio così. Questo gioco aiuta i bambini a sviluppare la loro motricità fine, grazie all'utilizzo della pinza, al riconoscimento delle forme, a sviluppare il pensiero logico e la concentrazione. Speriamo che questo gioco vi sia piaciuto, ma mi raccomando iscrivetevi al nostro canale e continuate a seguire i nostri video per conoscere tutti i nostri giochi. Ciao! Ciao!